Abbiamo bisogno che il comune da un lato e la regione dall'altro decidano in modo formale, ufficiale, di investire i 15 milioni per il comune di Milano e la regione ne mette almeno altrettanti per il quartiere Laurentaggio-Giambellino e ci serve un atto che formalizzi questo tipo di accordo. Noi qui non abbiamo più tempo e modo di aspettare e di attendere, è venuto il tempo di un passaggio decisivo e cruciale, se non accade adesso abbiamo paura che non accada mai più e non possiamo permetterci di perdere un'opportunità come quella generata dal fatto di avere oggi una disponibilità reale e concreta che rischiamo di perdere e di non utilizzare. Sarebbe imperdonabile.